Buongiorno a tutti, siamo qui oggi con il nostro consulente finanziario Alessandro Romagnolo. Di cosa ci parla oggi? Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi vorrei parlarvi del ruolo del consulente finanziario, riallacciandomi all'intervista precedente, dove abbiamo visto la necessità di diventare dei vestitori consapevoli e che la consapevolezza passava attraverso l'informazione o l'educazione finanziaria. Qual è il ruolo del consulente finanziario per gli italiani? Il consulente finanziario deve aiutare a capire le esigenze di risparmio e di investimento nelle diverse fasi della vita e individuare le soluzioni migliori in un'ottica di lungo periodo, ma non solo. Quando dice non solo, di cosa si tratta? Oggi i prodotti di investimento sono sempre più complessi e le norme sono anche molto complicate e possono fare desistere nell'adottare da parte del cliente un approccio di lungo termine per quanto riguarda il risparmio. E lasciare il capitale per molto tempo parcheggiato sui conti correnti. Di fronte a queste difficoltà ecco che può entrare in gioco la figura del consulente finanziario. Perché a di fianco al risparmiatore? Perché questo professionista può aiutare nel mettere a fuoco quelle che sono le esigenze nelle diverse fasi di vita e nell'individuare le migliori soluzioni finanziarie assicurative e preveniziali per il cliente. In poche parole prevedere una corretta pianificazione finanziaria. Praticamente un ruolo a 360 gradi? Sì, il ruolo del consulente finanziario infatti è stato valorizzato nella direttiva MIFI 2 che è entrata in vigore lo scorso gennaio. Che ha reso questo servizio centrale se non addirittura essenziale per tutelare i risparmi dai rischi del fai da te. Questo l'avevamo già visto in precedenti puntate. Il consulente finanziario non è però solo sinonimo di pianificazione finanziaria e anche protezione di patrimonio. Il suo ruolo infatti agli occhi dei risparmiatori italiani deve essere molto ma molto più ampio. Ci può dare qualche dato? Da una ricerca realizzata da SVG emerge che il 53% degli italiani che si rivolgono ad un consulente riconosce a questa figura un ruolo di aiuto nel trasferire le competenze finanziarie all'interno del gruppo familiare. In altre parole, di diventare un vero e proprio educatore finanziario per la famiglia. Quanto ne sanno gli italiani di finanza? La preparazione di italiani legati ai temi del risparmio della finanza e anche alla previdenza, secondo una recente indagine del centro studi Einaudi soltanto due italiani su dieci conoscono e hanno consapevolezza dei tre concetti fondamentali delle finanze come i tassi di interesse, l'inflazione e la diversificazione del rischio. Proprio questa scarsa alfabetizzazione finanziaria spinge oggi molte famiglie italiane a nutrire una diffidenza verso gli strumenti finanziari con il risultato di rinunciare a una corretta pianificazione e lasciare i propri risparmi parcheggiati sui conti correnti. Come può essere importante la figura del consulente finanziario in questo contesto? Consulenti e reti possono e devono quindi diventare un valido supporto per le famiglie italiane nella pianificazione finanziaria a lungo termine, che unisca i temi del risparmio, della protezione e che abbracci le esigenze delle diverse generazioni, molto importante questo, contribuendo così a formare una nuova leva di investitori consapevoli. Lei ha parlato di una nuova leva di investitori consapevoli. Che cosa intende? Guardando al futuro è importante coinvolgere sempre di più i giovani tenuti troppo spesso fuori dalle questioni finanziarie di famiglia. Dallo studio e in Audi emerge infatti che il 58% degli investitori non coinvolge i propri figli o li coinvolge in maniera marginale nelle decisioni di investimento. Un notevole rischio questo per il futuro, non solo perché si agevola un progressivo passaggio generazionale nelle scelte di investimento, ma anche perché spesso non si dà la possibilità ai giovani di sviluppare l'importanza del risparmio e la consapevolezza della pianificazione finanziaria. Ci vuole anticipare il tema del prossimo incontro? Avendo parlato del ruolo del consulente finanziario e la volta precedente avevamo fatto un accenno ai bail-in, ossia alle sofferenze bancarie, ritengo che la prossima puntata debba essere un approfondimento di questo tema. Grazie a tutti e alla prossima puntata. Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro a tutti. Arrivederci.